Chissà dove sono andati gli autobus Ah, Taiyo e i suoi amici hanno trovato un tesoro Ma come fare a raggiungerli? Il traghetto trasporta gli autobus sull'altra riva Tutti a bordo Tutti a bordo Svoltiamo Siamo arrivati Solti a bordo Grazie a tutti. Grazie, traghetto. Oh, gli autobus hanno già caricato un intero carrello di tesori. Wow! Ma come lo riportiamo indietro? Oh, oh! Oh, chi aiuterà i piccoli autobus? Oh, il camion ha portato i tappetini. Che interessante! Guarda, i tappetini galleggiano! Li possiamo usare come zattera! Oh, i tappetini! Oh! 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 guardate autobus su questi tappetini potete arrivare sull'altra riva chi è il primo? adesso il carrello con i tesori fa' attenzione Raggi avanti sui Sì! Yeah! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Le spingi e filano a volte si infilano le sempre qui con te L'autobustaio ha trovato una piscina con le palline Gli amici di Taio, gli autobus colorati Sono venuti a giocare in piscina Anche il camioncino è venuto a giocare Anche l'autobus verde è saltato sulla torre E' quello rosso E' quello giallo Il camion è caduto La grande gru gialla aiuterà tutti Il camioncino è venuto a giocare a giocare a giocare a giocare a giocare a giocare Il camioncino è venuto a giocare 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 Il camioncino è venuto a giocare 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 La gruRock La gru tira fuori il camioncino La gru tira fuori il camion dalla piscina Ma il piccolo autobus Non ha come attaccarsi al gancio Gli serve una piattaforma su cui salire Grazie, Gru! La Gru è venuta a salvare Il autobus blu La Gru è venuta a salvare Grazie, Gru! Grazie, Gru! Grazie, Gru! Grazie, Gru! Grazie, Gru! Grazie, Gru!